Osteopatia Salve a tutti, sono Alessandro Laurenti e oggi vi parlerò di osteopatia e di come poter utilizzare una tecnica manuale di rilassamento corporeo dei muscoli della nostra schiena. Allora, questa tecnica è una tecnica molto comune a tante terapie manuali e si viene chiamata la tecnica dei rami di abete. Allora, seguitemi, immaginiamo che la colonna vertebrale sia il tronco dell'albero e dal tronco dell'albero partono dei rami che si diffondono lungo tutto il corpo. Questo scivolamento delle mani dovrà essere uno scivolamento molto dolce, molto molto dolce, che andrà dal collo verso il bacino. E dunque lo ripeterò più volte di seguito. Questa tecnica la possiamo fare sia al di sopra di una maglietta oppure senza la maglietta direttamente sulla pelle. Ma, mi raccomando sempre, che sia una tecnica etidermica molto dolce. D'accordo? Spero che questo video vi sarà utile. Vi ringrazio per l'attenzione. L'ido resta sempre con voi. Grazie, arrivederci.